Ciao a tutti ragazzi, sono CyberDX e in questo nuovo video sono qui a giocare il sword in compagnia di... Ciao ciao carusi! Ecco qua. Allora, cosa mi chiede la quest? Di accedere al... Uh! Uh! C'è un canino d'acciaio! Ma che c'è il canino d'acciaio? È una maschera che si mette davanti, che bella! Cambiamo un po' qua i set. Stardino non cazzo. Nessun titolo, non c'è il regalo di Anne. No, perché prima devi cedere al lago di Nozzo. Andiamo al lago di Nozzo. Ma senti, mi invidi nel gruppo, porta della pippella. Ok. Bravo cane. Cane? A me? Non ti invito più, vaffanculo, l'altro cazzo. No, non ti invito. Invito io. Non puoi, stai nel campo. Posso. Non puoi. Non puoi. Ma vaffanculo. Noi, amore. E poi. Cos'è che devo uccidere? I poru? I porcci e caci. Non sono i porcci e caci. Qua sono i poru, i briganti poru. Ah, amore. Comunque, io prima ti stavo chiedendo e tu non mi hai dato conto che skill metto le stesse... Non è che mi hai dato conto, che stavo facendo nel video. Ma io che skill metto? Quelle che vuoi metti, no, metti le skill che vuoi. Ma scusa, fallo con la quest, con la quest, no? Che poi non c'hai più skill point e vai fuori epic. Tu devi farlo con l'epic, amore, epic. Questa è una serie epic. Ma scusa, ma fai tu. Devo usare le skillet. No. Cioè, aggiungi gli skill point, no usare le skillet. Non so parlare, aiuto. Che cosa sta dicendo? Non so parlare. Cosa sta dicendo? Fa pure le pernacchie. Cosa sta dicendo? Aiutatela. Com'è volato quello? Termina subito. Perché non mi fa terminare sto porco? Perché devi tornare qua. Andrit, blu, in quantità e arma, sciogli elz, qualsiasi amicizia. Cazzo, devo farlo star nudo, porco. Porco. E' ciò. Ok. Eccoli qua. Ciao. Tu voglio inviare le schizze. No, allora. Accedi alla palude nebbiosa. Minimo normale, amore. Minimo normale. Stai, hai pure il coraggio di abbinare. Sì. Stavo mettendo... Beh, se giochi a Voidelsword o lo Elz, o lo Elzword, è in grado. La gente che abbina a questo dungeon, cioè... Ce ne sa. Lo so, lo so. Voidelsword, ancora non ho fatto i nudi. Ehi, si è il nudi. Ma non mi si avvia più, non mi fa lo dare più. A me Voidelsword l'ho cancellato, non ho capito perché. No, al cos'è il ghiaccio l'hai messo? Che. Che antichità. Sono fedele alle mie skill. Ma guarda che l'onda di ghiaccio tuttora la uso, eh. Vabbè, ma quella di fuoco fa danno, però, eh. Questa di ghiaccio la rallenta e basta. Teoricamente. Guarda che quella di ghiaccio fa danno pure. No, ma quella di fuoco... Solo che ha bisogno della nota. Eh, infatti io con l'altra isha c'ho la nota. Vi devo presentare la mesha dei ghiacci, poi, ragazzi. Già l'hai presentata più di una volta. Ma che cazzo dice? Mi sei paralizzato? E sto... Questo co... Questo coglione paralizza? Io li faccio male adesso. Io li faccio male. Io li faccio male a questo! E gli è pausci. Eh sì. Perché non ho capito se sto registrando o no. Cioè, io ora vedo... Sì, ragazzi, siamo da tre minuti a registrare. Levati! Ecco. Ok. No! Sei una stronza con l'AC. Che cacchio fai pure lì? Un pezzo di legno sotto di te. Mi voleva ingruppare. No! Il pezzo di legno! Il tronco! L'albero! E tu fai un albero. Madonna mia, cominciò a laggare, ragazzi. Sentite proprio il lag? Sentite proprio. Come hai osato salire di livello prima di me? Ma tu la senti la pesantezza del lag? Sì. Ecco, ragazzi, che comincio a laggare. Come un culo! Come un culo davanti ai video. Cominciò a failare. Che cazzo fai così? Stai laggando! Tu stai laggando! No, non è vero. Che cazzo laggando? Aspetta, non spremeresco, non spremeresco. Deve consegnare l'Eldrid a guarda un po' chi c'è. Amore, amico tu è arrivato. Questo è il mio pet, è la mia cavalcatura. Amico tu è arrivato. Eh, quello è tuo per sempre. Sempre i polo. Che è un bastardo. Perché? Perché io gli ho fatto un po' di fumine e tu me l'hai buttato via. No, veramente. Lo sai che lo faccio sempre col culo qua. Attacco poteroso. Ma era una cazzata. Cioè. Tu che fai la X se non c'hai nemmeno la mana. E buttire il pallo. Hai rotto il pallo. Hai capito? Hai rotto il pallo. No. Guarda, guarda. Dove è così? Fai la... Ecco. Però esce la nuvoletta. Esce. E che cazzo salti, cogliona? Questo è un nuovo screen. Questo è un nuovo... Nuovo coso. Ecco. Nuovo sfondo del canale, però. Ecco che mi ami. Ma che cosa? Ami la mia gonna che si alza quando mi carico. Sì, perché ti vedono tutti. Veloce! Ecco che parte un video. Video di merda, no. Esco. No, io non lo vedo. Io esco. Guardate qua, Rinna, come salta. Uh! Benders che ancora scappa. Ti saluta. Ecco che arriva Hellsword ancora non revampato. Da un colpo a un... Una volpe? Cazzo è? No, questi sono quelli lupo. No, questa è la banda di Benders, ok? E c'è una mappa con la mappa del tesoro dei banditi di Benders. Dimmi quando esci. E poi c'è Isha che colpisce, ed è il sordo a cazzo di cane. Ed è il sordo con i capelli bianchi. Ok, termina subito. Donna, che vuole il sordo? No, non posso commerciare con te. No, non devi commerciare con me. Sì, ti volevo porre un regalo e tu non lo accetti, però vado per posto. Ok, devo accedere al lago di nozze. Ok. Vieni pure tu, veloce, devo farle epic. Accedo, accedo, ora accedo. Maronna. Accedo, accedo. Che stupido, lo fai. Com'è? In Clash of Clans. Sgherro. Sgherro. Che scemo. Sgherro. Sei idiota, fatelo dire. Sgherro. Piano di fuga. Questa. Allora non posso terminare. Uh, cazzo di storielli di merda. Devo leggere per forza. Andate a fare le storielli a casa vostra. Fumetti di merda. Fumetti di merda. Accida, Elda. Scusa, ma io non c'ho quella della quest e skillpone. Devo leggere, è bello che c'è scritto interrompiesco. Interrompiesco. No, che palle, devo andare a ponte. Ponte ponente, ponte p... Ok, accedi al ponte monumentale di Rubo. E intanto abbiamo appena finito tutte le quest di... No, no. Di? Di? Di tua madre. Di... Di coso, là, come si chiama? Di Ruben, ragazzi. Oh mio Dio. Però non c'è ancora il secret di Ruben, cosa che io... Mi fa... Mi nasce un po' troppo perplesso. Ma nel secret di Ruben, secondo te cosa devono mettere? Il grande po' Rubenius. Enrico il culo amico? Sì, Enrico il culo amico. Enrico. Guarda come sta laggando. Perché, ragazzi... Perché? Ragazzi, io non ho... Perché sei un culo maledetto. Ragazzi, questo video è lagg, proprio. Questa è colpa degli sgherri. Che il lagg sia con noi. Sgherro! Basta! Sgherro! Basta, il titolo del video è sgherro, basta. No, perché? Perché sì. No, lagga! Aiutatemi. No, che cosa... Che combo di merda che ho fatto. Aiutami! Come ti aiuto? La banda di Benders devo battere qua. Al lago. Al lago? Al ponte monumentale qua. Aiutami. Prima al lago, poi al fuori. Aiutami, c'è il ponte monumentale di Robo. Ho detto, ma frate, ora devo aspettare a te per fare epic. Dai! No, no, arrivo, arrivo. Cazzo, dai, per ogni volta devo aspettare a te. Qua. E meno male che ho detto, andiamo insieme. Che cazzo stai facendo fino ad adesso? Ah, qua sto. Mi preoccupare. Che cazzo stai facendo? Fino a questa stavo io, sto. Che cazzo stavi facendo fino ad adesso? Vai da quelli tuoi! Caputtana! Non solo ti aiuto, mi cazzo. Ma no, ma è normale, sto facendo io. Che cazzo stai facendo? Li ho fatti già lì. E questi li stavo ammazzati. Tutto da solo sto facendo. Mamma mia. Basta, basta. Vai di là. Tutto io sto facendo qua. Faria, io esco. Sì, arretto il cazzo. Ed esci proprio. Cioè, tutto io sto facendo. Ah, a modo, aspetta a te. Perché? Perché devi fare la stronza. E poi non andiamo di pari passo. Perché l'esperienza ne ho più io di te. Accedi a Eld. Quei, reiterati da sta cazzo di quest. Ripeti qua. Ecco. La fiducia di Hoffman. Cazzo. Cazzo. Modo, aspettare a te. Do aspettare. Te muore questo con la protezione. E che cazzo, dai. Tutto perché è la rivalità. Ma andiamo di pari passo. Di pari passo stiamo. Sì, assai siamo di pari passo. Di pari passo. Skill ancora non le posso mettere qua. Non mi, non arriva nessuno a quest che mi dice. Metti le skill. Le hanno tolte. Ah? Le hanno tolte. Cosa? Le quest, le skill. Comunque devo andare a Bosco Notturno. Se ti muovi. In abbinamento. Tre cristiani, ragazzi. Tre cristiani. Brava. Vai ragazzi. Siamo a Bosco Notturno. Esperto. Oh. Il nostro primo abbinamento. Hai visto cambiata l'immagine di Hellsword? Sì. Mamma mia. Oh, un cavallo. Un cavallo di Truia. Un cavallo tuo. Ehi, ehi. Perché quello è tutto, tutto scioppato lì? Perché è a livello 70 che è un bastardo. Hai rotto il cazzo alla gara. Hai rotto il cazzo. E quello sale. Ah, ma sono i livelli 70. Non vale. Cioè, veramente solo Chang a livello 70. E vabbè, dai. Che palle questi col jump hit. Non ho rotto le palle proprio. Questo jump hit di merda. Vai, vai. E vai, Chang. Non rompe il cazzo qua. Ecco, l'hai rotto tu il cazzo. Uffa. In tutti i sensi. Uffa. Fattivo. Ragazzi, mi maltratta. Mi maltratta. E ti maltratta. Vedi a me come rompe il cazzo. Cioè, voi lo vedete nei video. Non è niente. Non è niente quello che vedete nei video. È un bastardo. Sei pure. Pure bastardo che è strachiamato. Sì. Ah, ehi. Uccidelo. È morto. Un po' quel chunk maledetto. Ma perché stanno i livelli 70? Ti tolgo il divertimento. Che si stanno facendo le epic. Questo è bello. Ma dai, ti tolgo il divertimento proprio. Che è? Pericolo. Oh, pericolo. Non devi perdere. Non devi. Aspetta, come è che si diceva? Non devi. Pericolo. C'è il pericolo di rilassarsi, ecco. Che facolti? Era una citazione. In pezzo c'è il telecronista che diceva. Non devono perdere. Non devono perdere qualcosa per rilassarsi. Cosa c'è? Dicevo. Ma c'è la stessa cosa? Ogni pezzo. Dice la stessa cosa. Ecco, comincio a laggare. Guardatela, 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 guardatela. Guardatela. Oddio. Oddio. Madonna che laggi di merda che hai fatto. Io. L'ho registrato tutto. L'ho registrato. Hai fatto la cosa. L'ho registrato tutto. Tutto l'ho registrato. Tu stavi laggando. Mi hai fatto una data bestia. Ma continua, ragazzi. Continua. Beh, ragazzi, per questo video è tutto. Che vuoi da me? Posso? Posso? Sì, amore. Termino la epic. Ok. Ragazzi, per questo video è tutto. Grazie per la visualizzazione. Spero che il video vi sia piaciuto. E... Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, 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 ciao. Viva Disgherry.